Buon pomeriggio, signore e signori, e benvenuti all'esebizione della mini-banda del corpo bandistico La Molfina, di Lesa, diretta dal maestro Damiano Morellini, nata con l'intento di insegnare la musica, insieme agli allievi di proporre un repertorio originale per questo organico. A voi un brano divertente e dal ritmo accentuato, di Brother Rockings Jr. Grazie. 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 A questo punto è l'ora di Anthony Duora. Vi presenteremo il largo finale tratto dalla famosissima sinfonia del nuovo mondo. Grazie. 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 La Mi Dimanda finisce la sua esibizione con un brano che non ha bisogno di presentazioni. Di Bernstein, I Magnifici Sette. Con l'augurio che l'esibizione sia stata di vostro gradimento. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. 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 Vi presento i componenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.